Dalle prossime ore si potrà tornare a vaccinare con AstraZeneca. Assessore per la nostra regione, questa è comunque una bella notizia perché è un vaccino che viene utilizzato anche in Abruzzo per alcune categorie. Sì, diciamo dopo aver appreso tutto ciò che è stato definito sia a livello europeo ma anche a livello nazionale sulla validità di questo vaccino, subito dopo noi attiveremo di nuovo la vaccinazione sul nostro territorio regionale. Cominceremo da tutti gli addetti alla protezione civile che hanno espresso il loro desiderio di vaccinarsi subito anche come esempio importante e fondamentale. Come regione vi aspettate comunque l'arrivo di un maggior numero di dosi già dai prossimi giorni, dalle prossime settimane? Noi cercheremo in questi giorni di recuperare le dosi che non sono state somministrate nei giorni precedenti quando sono stati ritirati i vaccini ma soprattutto siamo in attesa anche dal mese di aprile, così come è stato sottolineato dal Ministero, di ulteriori dosi importanti di altri vaccini tipo Pfizer e Moderna che serviranno soprattutto per gli ultraottantenni. Stiamo chiudendo questa fase di vaccinazione per partire alla seconda fase e quindi già dalla prossima settimana poter vaccinare i fragili e soprattutto i disabili che hanno una grande gravità ma soprattutto hanno la legge 104. Contemporaneamente al CTS nazionale si riunisce l'unità di crisi come ogni venerdì nella nostra regione dove analizzeremo i dati delle varie alze, i dati che i dipartimenti delle alze ci presentano e continueremo con una modalità importante che è quella di portare avanti misure restrittive nei comuni analizzare perché questa forma è stata una forma vincente quindi non andiamo a chiudere la nostra regione, la nostra regione sarà una regione che potrà andare sempre in una parte diciamo a decolorarsi diciamo ce lo auguriamo, con questa modalità senz'altro i numeri come voi sapete stanno scendendo e quindi ci auguriamo di portare delle misure aperte adesso e quindi dare le possibilità di ridurre in alcuni centri della nostra regione quelle misure che erano in atto.